Oh, guardate, oh, guardate, che accidente. Non conosco, non conosco più mia moglie. Ego al turco, eguali spoglie, tutto eguale, che farò? Non partire di qui non posso senza voi, fiorilla mia, senza voi, fiorilla mia. Ma comprendere non posso qual sarà la sorte mia, qual sarà la sorte mia. Non conosco più mia moglie. E risolvo, che farò? E seguitemi in Turchia, la mia sposa vi farà, sì, sì, mia sposa vi farò. Per suadermi il corforreio, ma risol, per me lo so. Per suadermi il corforreio, ma risol, per me lo so. Ma risol, per me lo so. Oh, guardate, oh, guardate, che accidente. Non conosco più mia moglie. Ma al turco e quelle storie, tutte quale, che farò? Oh, guardate, che accidente. Per suadermi il corforreio, ma risol, per me lo so. Per suadermi il corforreio, ma risol, per me lo so. Per ciò, per me lo so. Per考are di questo producingание sul warmi il corforreio, ma risol, e poi ancora risol, per me lo so. E quindi la procrastinazione del corforreio, ma risol, per me lo so. E quindi il corforreio, ma risol, per me lo so. E quindi il corforreio, ma risol, ma risol. Per me lo so. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.